Il Comune di Chioggia accoglie favorevolmente l'invito a partecipare alla quinta edizione Italian Port Days, un'iniziativa che mira a promuovere il collegamento tra i porti e territori circostanti, attraverso eventi, incontri e visite informative alle strutture portuali aperte al pubblico. Questo evento è promosso dalle autorità portuali e ha l'obiettivo di avvicinare la popolazione alla vita e alla cultura portuale. L'amministrazione comunale di Chioggia riconosce l'importanza di progetti culturali che valorizzano il patrimonio culturale marittimo portuale locale, in particolare in relazione alle città marinarie adriatiche. La stessa collaborerà con l'autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, continuando la partnership iniziata nel 2021 nel progetto europeo Remember e aderendo all'Italian Port Days del 2022. L'istanza, presentata dal presidente dell'autorità portuale, prevede la collaborazione del Comune di Chioggia per l'edizione 2023 di Italian Port Days, includendo una giornata formativa aperta agli operatori turistici e laboratori ludico-didattici per le scuole primarie, presso il Museo Civico della Laguna Sud. Il Comune accoglie questa proposta e si impegna a fornire l'uso gratuito dell'auditorium comunale San Nicolò e degli spazi museali, nonché a promuovere l'applicazione multimediale Museo Virtuale dei Porti di Venezia e Chioggia e il programma Port Educational. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS